Ciao a tutti, siamo nella palestra di Rimini a Belluzzi e volevo ricordarvi che questa sera ci sarà al Palazzetto dello Sport un bellissimo incontro della Manu Belluzzi e della Milani Luisella che faranno sì che i genitori delle squadre che abbiamo noi e noi abbiano un confronto tra i genitori e tra gli allenatori voi vedete questo cartello che indica esattamente quello che ci sarà stasera alle 21 al Palazzetto e adesso stiamo osservando la partita di pallavolo dell'Under 16 tra due squadre che sono il Dravelli di Torino e la National Quintiglia di Roma e in battuta la squadra del Dravelli bellissima battuta e adesso arriverà la schiacciata no perché era non bella e di conseguenza il centrale fa punto bellissimo punto della ragazza centrale del Dravelli l'allenatore lo vediamo tranquillo sono appena i primi punti che hanno nel primo set e un'altra battuta si chiama battuta ace vuol dire che hanno fatto punto su battuta molto brave dall'altra parte un po' una cosa ricezione mica tanto bella adesso si affrontano di nuovo i ragazzi ricezione il libero prende la palla purtroppo non hanno avuto la possibilità di attaccare ed ecco che riattaccano vediamo se questa volta attaccano si ma non con forza un'altra bella schiacciata forse c'è l'allenatrice dell'altra squadra che vede le loro ragazze in difficoltà si sta già mangiando le unghie ed è un pochino preoccupata spero che questa cosa risollevi un pochino la squadra di nuovo ricezione del libero ed ecco un attacco dell'anno vediamo di nuovo bravissime pallonetto schiacciata ma non è proprio una schiacciata era un palleggio forzato è grosso sbaglio adesso c'è il libero che viene cambiato con la giocattrice titolare che bella panchina che hanno guarda quante ragazze che ci sono in attesa di entrare di giocare di spaccare tutto sono veramente felici di essere arrivi secondo me vorranno entrare subito ma subito subito ma non sperate che le vostre compagnie sbaglino eh l'allenatrice ha conquistato di nuovo palla vediamo un po' la battuta della ragazza l'arbitro serio ha fischiato una palla era un pallo e l'ha fischiata portata adesso vediamo il segna punti speriamo che faccia il suo dovere abbiamo anche un altro rappresentante della Wisp romana facciamo finita di far parlare i zombie va bene grazie per i zombie l'allenatore è tranquillo di solito noi lo vediamo sempre preoccupato adesso possiamo anche andare a vedere che cosa succede nella parte sposta della palestra perché abbiamo due squadre che giocano quattro squadre che giocano in due palestre diverse e adesso andiamo all'altra palestra Belluzzi dove c'è ancora il riscaldamento da questa parte sono nelle battute che precedono la gara vera e propria vediamo che i due arbitri sono al tavolo del segna punti le ragazze si stanno scaldando con delle battute e le squadre sono il San Luigi Santena San Luigi Santena e il National Quintiglia di Roma presentiamo anche la gli arbitri guardate sono proprio imponenti i nostri arbitri abbiamo anche un dirigente della San Quintiglia National Quintiglia Roma che dà una mano agli arbitri a girare i punti ha detto che gira sui punti suoi questo non va mica bene però visto che sorriso che ha la ragazza guarda che bella ti piacciamo nel mondo dello spettacolo via adesso noi finiamo la nostra diretta inquadrando l'arbitro professionale in tenuta Wisp e chiudiamo la nostra diretta e ci vediamo poi questa sera con Luisella e Manu